ciao a tutti e bentornati nel mio canale ho preferito fare un video piuttosto che una live perché comunque era un argomento un po particolare quello di cui voglio parlare oggi in questo vlog dicevo ho preferito optare per un video piuttosto che una live perché non volevo che il senso del video del messaggio che volevo lanciare fosse stato poi travisato da interferenze di persone che comunque intervengono non per avere un confronto per dare un parere ma prettamente per offendere ora l'argomento di cui volevo trattare in questo video è il fatto che ho seguito con attenzione una live poc'anzi sul canale di marco tito volley devo dire che io tempo addietro circa un mesetto fa avevo già notato che in lui era in corso un cambiamento un cambiamento voltato alla positività e questo cambiamento ora credo sia stato in concomitanza con la chiusura dell'amicizia con la regina bastarda o magari una coincidenza non lo so come vuol come dirsi voglia però comunque in concomitanza con questa rottura c'è stata una sorta di fioritura di marco in positivo ora ascoltando le due live due video che ha fatto marco perché comunque io li ho visti indifferita devo dire che ci ho letto veramente tanta amarezza e delusione da parte di marco nei confronti di questa amicizia in cui aveva riposto grandi sentimenti perché ragazzi uno ci rimane male ci resta male solo quando ci mette ci investe in sentimenti un qualcosa ora può essere un'amicizia può essere un amore un coinvolgimento c'era marco ci è rimasto veramente tanto male e ora a sentire un po a grandi linee i racconti di quelli che erano in retroscena di questa amicizia devo dire che marco a parte che da vederli dal di fuori si capiva benissimo che la parte debole dell'amicizia era rappresentata da marco mentre la parte forte da dalla regina bastarda ora però ad immaginare determinate dinamiche ce ne voleva un bel po però comunque un qualcosa si percepiva anche perché marco una persona molto sensibile ed era facilmente trattabile dal punto di vista morale nel senso che magari come ha raccontato lui stesso c'era la regina che magari gli diceva se non fai questa determinata cosa io mi allontano da te ti blocco ti cancello ora siccome lui era molto coinvolto in questa amicizia ci aveva messo il cuore possiamo dire praticamente ci si sentiva un po con le spalle al muro e di volta in volta tendeva ad assecondare quelle che erano le richieste di grazia ora queste non sono cose che mi invento io ma per chi volesse poi approfondire ci sono le due live lì sul canale di marco dove espone ampiamente quelle che erano tutto il retroscena di questa tra virgolette amicizia ora il tutto credo si sia praticamente frantumato con un episodio particolare cioè il fatto che nel giorno della morte del papà di marco che è stato quella primavera scorsa nello stesso giorno non è stato osservato alcuna pausa da video live c'è stories su instagram da parte di grazia che comunque osservava questa particolare tendenza a fare una pausa di merito al lutto anche magari subito dai suoi moderatori poi quando si è trattato di marco sembra che appena tre quattro ore dopo avuta la notizia della morte del papà di marco lei abbia fatto una live che poi la voleva rigirare che era dedicata al papà di marco ma che assistito a quella live aveva capito benissimo che non era così anche se poi alla fine sono partiti uoricini però io credo che non era proprio il caso di aprire una live in quella in quella giornata stessa magari osservare un paio di giorni di silenzio era più che giusto però la regina non ha creduto bene in questa cosa e ha optato per fare una live però da quel giorno in poi praticamente marco se l'è legata al dito sta cosa e l'amicizia non è stata più quella di prima sebbene poi comunque abbiano avuto lo stesso dei rapporti così dei contatti però oramai qualcosa si era spezzato non è tornato più lo stesso lo stesso marco più volte ha ribadito che da quel momento in poi per lui l'amicizia con grazia non era stata più la stessa ora però c'è il fatto che marco chiede espressamente di non essere più nominato nelle discussioni nei discorsi di la regina bastarda invece lei sembra che vada avanti ad oltranza nei suoi ragionamenti mette sempre comunque il nome di marco come riferimento lui non ci sta più a quanto ho capito al momento non è neanche in italia e all'estero che vuole aprire un'attività lì all'estero praticamente può le prendere anche casa ora non ha detto ovviamente la posizione geografica però comunque credo che si stia veramente preparando ad un cambiamento grande marco io me ne era accorta perché lo vedevo un po più più silenzioso un po più rispettoso più riflessivo vi ricordate il marco dei vecchi tempi quando sbottava per non nulla urlava scalpitava adesso credo che magari perché un po maturato col tempo adesso non è più un ragazzino un quarantenne che sta cercando di gettare le basi per un qualcosa di più importante di più concreto no per la sua vita adesso youtube è veramente diventato un aspetto marginale della sua vita sta concentrando tutta la sua attenzione sul costruire sul gettare le fondamenta per qualcosa di più importante impegnativo per la sua vita e credo che comunque stia facendo più che bene ora la cosa che mi dispiace che comunque sono stati amici tre anni e mezzo lui è la regina bastarda però si sono lasciati questa amicizia praticamente si è distrutta e si è conclusa in un malo modo cioè poteva comunque concludersi in un modo più pacifico però purtroppo nella vita non tutto si può programmare e ahimè bisogna prendere le cose come vengono certo che ultimamente su youtube c'è sta veramente un maremoto c'è un maremoto tra in qualsiasi canale c'è qualcosa che non va io opto sempre per dei video per delle live leggere e mi attengo a dare il mio parere in merito a ciò che vedo pubblicamente esposto perché comunque ragazzi bisogna anche pensare che ciò che vediamo pubblicamente nei canali è solamente il 10 per cento di quello che succede nel nella vita reale perché comunque il più si svolge privatamente io a differenza di qualcuno mi limito a giudicare a dare un'opinione in merito a quello che vedo pubblicamente esposto non vado per supposizioni per opzioni eccetera perché credo sia stupido perché comunque quello che io potrei immaginare non si avvicinerebbe manco di due centimetri a quella che è la verità e fare una figuraccia quindi io credo che la chiave giusta sia a tenersi a giudicare ciò che si vede quello che si sente soprattutto mai per quello che viene riportato perché nel riportare di persona da persona a persona comunque la quella che è la realtà iniziale è sempre di molto modificata quindi si andrebbe a dare un giudizio su qualcosa che è stato modificato da persona a persona quindi ora c'è questa chiusura totale di questa amicizia durata ben tre anni e mezzo ora Marco è volto ad un nuovo inizio io di parte mia gli auguro tutto il bene possibile perché comunque il cambiamento all'inizio magari spaventa sempre un po' però poi pian piano che si va avanti le cose si aggiustano e si sistemano si personalizzano e quindi ogni tanto bisogna fare un passo più lungo della gamba altrimenti sta vita che sapore avrebbe ora detto questo non volevo fare un video vlog lunghissimo anche perché comunque devo dire che ho voluto giusto dare un parere in merito a questa situazione perché mi ha colpito molto il vedere Marco in questo stato sinceramente mi è dispiaciuto perché comunque a livello umano io poi comunque con Marco non ho mai avuto problemi ma comunque anche se ne avessi avuto a livello umano dispiace sempre vedere le persone che ad un certo punto della vita si ritrovano a questi bivi che comunque vanno risolti cioè chiudere o lasciare aperta così un'amicizia che comunque gli faceva più male che bene ora credo che anche Grazia dovrebbe dal suo canto a provare nuove strade nuovi sentieri e comunque andare un po' anche lei verso il cambiamento in positivo che comunque ragazzi è un arricchimento sempre personale ora detto questo cioè non lo so a volte a vedere determinate dinamiche qui su YouTube Italia mi viene da dire che dagli amici mi salvi Dio che dai nemici mi salvo io perché comunque se ne vedono proprio ora detto questo io non ve la voglio fare tanto lunga a portarla alle calende delle greche comunque quello che era il mio pensiero l'ho espresso ora mi tocca andare a preparare la cena e augurare buona serata a tutti